Alcuni ragazzi dalla Sicilia, sapendo che avevo il privilegio di venire da lei e dicono di parlarle, mi hanno detto, dili questa frase, a volte l'allarme mafia viene tirato fuori quando mancano altri contenuti politici. Sottoscrive? Sì, sì, in pieno, ma questo non a volte, viene tirato sempre, è giusto tirarlo fuori, ma viene usato anche in maniera strumentale, questo è sicuro. Per colpire? Per colpire o per, diciamo così, assumere ruoli che nessuno ha dato. Alcuni dicono la mafia, l'antimafia, non la mafia, perché lei sulla mafia è stato chiaro, ho letto le sue intervinte, l'antimafia è diventata una sorta di brand, anche un trampolino per lanciare delle carriere o di magistrati o di politici. Sì, guardi, su questo io ho un'esperienza, non di tutti, ho un'esperienza personale, devo dire che intanto questo... L'antimafia è un brand, siamo d'accordo? Sì, lo ha detto già Shasha, non c'è bisogno che lo dica... Ha detto professionisti, noi siamo, diciamo, brand. Sì, va bene, è un accostamento un po' singolare, però l'antimafia è importantissima, ma quando diventa brand diventa un fatto non positivo. Non positivo. Sì, sì.